e la saluto ancora. Grazie, grazie per l'invito, salve a tutte e a tutti. Allora io mi sono scritta una piccola traccia, se no con i FAS ce la raccontiamo per due ore e potrebbe essere sicuramente uno dei fili conduttori della carovana perché accomuna non solo i cittadini del Vicentino, del Padovano e del Veronese ma accomuna il Veneto, al Piemonte e anche a molte altre regioni d'Italia. Allora FAS Land sta un po' a significare quello che è l'arcipelago dei no FAS. L'arcipelago dei no FAS è tanto grande quanto grande è l'inquinamento da FAS. Vuol dire che l'arcipelago dei no FAS è costituito da Legambiente, Greenpeace, da comitati come Zero FAS Padova, Cittadini, Zero FAS Vicenza, le mamme no FAS, Medicina Democratica, Cilsa, i centri sociali, insomma tutti si sono schierati a tutela della salute umana e della salute dell'ambiente. FAS sono delle molecole chimiche che non esistono in natura, sono delle molecole formate da atomi di fluoro e carbonio che una volta che si uniscono non si staccano più, sono indistruttibili. Il grande inganno è che i FAS non si vedono, non si sente l'odore, non hanno colore e questo è veramente la parte più ostica di tutta la battaglia e vi spiego subito perché. Allora abbiamo detto che sono delle molecole bioaccumulabili, come si bioaccumulano? Si bioaccumulano tramite l'acqua del rubinetto ed è per questo che hanno circoscritto la zona rossa del Veneto perché c'erano gli acquedotti contaminati che finalmente in parte sono stati sostituiti da nuove condotte, ma soprattutto si bioaccumulano con l'alimentazione. Questo viene citato molto poco in Veneto purtroppo perché il settore agricolo è un settore che tiene in piedi l'economia del paese, della nostra regione essendo anche geograficamente situata nella pianura veneta, è un territorio molto fertile, però i FAS vengono assunti da tutti noi, soprattutto da chi abita sopra alla falda contaminata e non solo perché le varie aziende agricole dopo commerciano i loro prodotti in tutta la regione e in giro per l'Italia. Abbiamo scoperto recentemente che i FAS si possono assumere anche tramite l'aria perché i filtri che vengono utilizzati negli acquedotti, ma anche sapete le sole mascherine chirurgiche che si indossano, quelle azzurre, contengono FAS perché è una sostanza idrorepellente e vengono incenerite. Allora quando abbiamo scoperto che anche oltre ai fanghi di depurazione anche i filtri degli acquedotti, anche le mascherine che vengono buttate nel secco vengono incenerite ti chiedi ma dove finiscono? C'è questi FAS una volta che vengono inceneriti. Pare che gli inceneritori nostri, come ha spiegato anche Mattia prima, non abbiano temperature alte a sufficienza per degradare i FAS, perché ci vogliono degli inceneritori che superano i 1400 gradi e in Veneto non ce ne sono, giusto? Ecco che io proprio mi sono detta ma allora è proprio l'economia circolare dell'orrore perché mi nascono in zona Miteni e Trissino, vengono utilizzati in tutta la Val Chiampo, penetrano nella falda, penetrano nei nostri alimenti, negli ortaggi, nelle uova, nella carne suina, nella carne bovina. Quello che viene raccolto negli acquedotti viene incenerito, il FAS non riesce a rompersi, viene volatilizzato e ritorna a terra, quindi ritorna sul suolo, nelle culture, in falda e così via. Ecco che allora l'unica possibilità è non produrli più, cioè non c'è alternativa, l'unica possibilità se proprio dobbiamo dirla è la produzione per casi essenziali medici, mi viene in mente la valvola ortica, ecco ma non la mascherina chirurgica voglio dire, ecco. Non è un inquinamento, è un disastro, cioè è una cosa ben diversa, è un disastro perché è un disastro ambientale, perché la Miteni è collocata sopra una delle falde più importanti d'Europa ed è la seconda falda più grande d'Europa. Una falda di ricarica vuol dire che c'è la falda, non è un lago sotto che è statico, è una falda viva che continua a ricaricarsi. Pare che l'inquinante sia sepolto anche sotto la Miteni, quindi fintanto che non rimuovono integramente quell'inquinante, continua a percolare in falda perché la regione evidentemente ARPAV o chi per lei non è in grado, lo ha ammesso, non sono parole mie, lo hanno ammesso di fronte alla commissione Ecomafie, non sono in grado di far funzionare bene la barriera sotto la Miteni, vuol dire che la barriera è un colabrodo come un colapasta, quindi ogni volta che la falda si alza per le precipitazioni varie, la falda si alza, va ad attingere alla bustina di tè inquinata che è sepolta sotto la Miteni e l'inquinante continua a percolare e continua a contaminare i nostri orti e i nostri acquedotti. L'acquedotto di Vicenza da due anni è contaminato da FAS e prima non lo era. Quindi disastro ambientale, un disastro sanitario perché tutte le malattie, lo sapete dalle conferenze del dottor Foresta, tutte le malattie che appunto arrecano tra ictus, un maggior rischio di ictus, di infarto, l'infertilità, siamo un popolo che siamo destinati a distinguerci perché infertilità maschile e infertilità femminile. Quando andiamo nelle scuole, perché una missione anche nostra è andare, e appunto grazie a degli attivisti che hanno lavorato nelle scuole, andare a portare il progetto NoFAS nelle scuole, oltre alle malattie, perché hai ragazzini che hanno 18-20 anni, non fai tanto preso con le malattie, il colesterolo, l'infarto, lo vedono una cosa molto lontana, l'Alzheimer. Il pene si riduce di un centimetro, quando tu hai 18 anni gli dici il pene è ridotto di un centimetro, che è una cosa angosciante, allora sì, no. Ecco, quindi il pene del maschio veneto è ridotto di un centimetro, ok? Infertilità femminile vuol dire che c'è un maggior rischio di aborti, e quindi emergenza, appunto, disastro sanitario. No, ti chiederei semplicemente di andare verso le conclusioni, Marcia. Disastro sanitario, economico e sociale, perché è un disastro che ha interrotto e compromette tuttora, non è vero che è una battaglia vinta, è una battaglia a metà, e proprio per il fatto che è un nemico invisibile subentra un'omertà che voi non avete idea. Quindi ci sono 15 indagati, è iniziato il processo il primo luglio, bene così, 15 tra manager di Miteni, Mitsubishi e Ichig, ma vogliamo spingere anche magari grazie alla carovana, fare in modo che parta anche un filone di inchiesta per le corresponsabilità, perché se è un disastro e tale è, è perché ci sono mancati i controlli. Finisco. Mi piace questa idea della carovana, perché se volete una delle prossime tappe può essere ad Arzignano, il 17 di luglio, proprio nel cuore della valle del Leon, ecco, dove faremo appunto una chiacchierata in piazza. Ecco, bisogna riconquistare le piazze.